ciao ragazze benvenute in questo nuovo video oggi volevo farvi vedere quattro prodotti che ho comprato lo stand essence però prima volevo ringraziare e salutare marina snails i love makeup and the nail art e gynastic nails un grossissimo bacio e queste tre ragazze hanno partecipato e hanno vinto al piccolo giochino che ho fatto su instagram infatti hanno indovinato il colore del semi permanente che è blu e per tutte le altre invece spero che comunque parteciperete lo stesso al prossimo giochino che a me farebbe molto molto piacere e niente allora io ero andata allo stand essence principalmente per ricomprarmi le goccine sugar smatto che ormai sono finite quasi però e le avevano finita anche loro e ho trovato invece questo spray qui l'express dry spray non so come funziona perché l'ho non l'ho mai provato l'ha trovato a 3 ore 19 magari se qualcuno di voi l'ha provato e volesse dirmi come si è trovato a me farebbe molto piacere comunque magari più avanti ve lo posso recensire anch'io poi ho preso due stickers ok allora questo qui è termico no questi qua sono quelli normali ci sono dei dei fiorellini dei cuoricini tutte robe molto molto carine e invece questi qua sono quelli termici neanche questi qua ho mai provato ma so che una ragazza su instagram mi aveva provati per adesso non ricordo il nome e se non sbaglio funzionavano anche quindi speriamo e poi infine ho comprato questo smaltino qui il sparkling sugar non ho mai provato anche questo dicono che fa un effetto 3d mi ispirava mi piaceva anche il colore e vediamo come va anche questo qua se qualcuna di voi l'ha provato se vuole far sapere come come si è trovata a me ripeto molto molto piacere ecco allora di queste quattro cosine qua io ho speso intorno agli 8 euro più o meno ecco poi come sapete magari chi mi segue su su instagram sa che ho aperto una nuova pagina facebook e vi lascerò magari il link se volete andare a vedere se volete seguirmi mi lascio tutto quanto nell'info box e dato che ci sono vi lascio anche il link del mio blog su pianeta donna e quello su instagram e facebook ovviamente niente questo è tutto io vi saluto e vi mando un grossissimo bacio ciao ciao